Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video Oggi, dopo tantissimo tempo, un nuovo video così proprio assurdo Perché è uscita la nuova stagione di Fortnite, come potete vedere anche dall'immagine qua E dunque, cos'è faremo oggi? Farò una reaction a questo nuovo Battle Pass ai Wild Retailer Perché avviando il gioco ci saranno Wild Retailer Vediamo se mi ricordo ancora come si fa lo YouTuber Dunque, io direi di avviare, non mi sono spoilerato niente A parte qui l'immagine principale Oppure aprendo Instagram che ti sbattono subito davanti spoiler vari Ma non li ho visti, a parte appunto queste piccole cosette Non so praticamente quasi niente Io direi di iniziare ad avviare il gioco Teniamo questi momenti di suspense e... Oh mio Dio, ma è fighissimo Ah, lì c'è la tigre dello spoiler C'è del leak, non dello spoiler C'è la banana Ma è fighissima sta roba Adesso in caso sposterò la webcam, ecco Una tizia con l'arco What? Legolas Poi cos'è che vedo? Un cane su un cannone So che hanno messo i cannoni Ok, ragazzi Cos'è lì? Cosa vedo? C'è un ninja e una banana La banana ovviamente sapevo che... Cioè, c'è una banana La banana Ma è stupenda Penso sia una delle skin buffe Ogni pass ha una skin buffa Trog Così Questa con la banana è veramente molto molto bella Non so perché proprio a tema banana Magari hanno aggiunto dei consumabili in gioco Ma io non lo so Perché è la prima volta che lo accendo Ecco Dunque, accesso in corso Ok Qui, vabbè, c'è salva il mondo Perché c'è ancora l'immagine vecchia? Battaglia reale Dai, dammi sto trailer Hanno tenuto l'immagine vecchia Si sono sbagliati Eh sì, perché c'è l'immagine nuova qui Ok Ragazzi, trailer What? Oh, i pesci Che figlio Fighissimo sto trailer sembra Ah, ma è proprio un'altra isola Non sto capendo Ah, tutti per il tesoro Ma quindi non c'è una sorta di sfida Figo, bisogna vedere Ok Segna il punto La X Ok Così abbiamo iniziato È molto figo mettere la Ok 50 Perfetto Ehm Tutti a cicli Vali gratuiti Poi troviamo vari oggetti Ovvero Oggetto 1 Oggetto 2 E ok Quelli gratuiti Uh figo questo Stendardo volante Ah, interessante Poi vediamo un altro Cosa ci dà Ecco Eh Cos? Ragnar Senza Paraspalle What? Perché questa cosa? Eh What the fuck? Ok Oh, stagioni 8 Ci dovrebbe essere anche il trailer Della stagione 8 Vabbè come funziona Sappiamo tutti Uh Tanta roba Tanta tanta roba Ok Questo è lo sfondo Molto carino Molto fantasy Ecco E quante sfide abbiamo lì? Ah ok No Sono le 3 giornaliere Più quelle del Eh Le nuove sfide Che cosa hanno cambiato Oh mio dio Ok Queste sono le stagioni 8 11 sfide qualsiasi Per ottenere un oggetto di compensa Si sarebbe road trip Che hanno Che si chiama scoperta Poi il giornaliere Ok Poi le settimane Ok Hanno suddiviso Poi abbiamo Eh Poi cos'è stile? Ah Per lo stile Mio L'hanno fatto benissimo Ancora devo finire Links e Zenith Per dirvi E re di ghiacci Cuore nero e ibrido Ok Ehm Ok Qui hanno tenuto Tutto il resto Invariato In teoria Si Ok Ok Il resto è tutto uguale Andiamo a vedere il pass battaglia Molto carino lo sfondo Ok Abbiamo Questo qui Cuore nero Che è un capitano 11 fasi Ok Inizia a diventare carino Figo Ok Bah Non mi dico Ok Molto molto figo 9 su Ok Questi sono i colori invece Ok Molto molto particolare Ecco Ora vediamo ibrido Vediamo un po' In teoria io lo posso riscattare Ecco Cos'è diventa questo? Ma che è? Oddio Ma è un'iguana Cos'è un drago? E Uuu Con i fulmini Ok Particolare Questo è particolare Nero sicuramente sarà bellissimo Ecco Ok Poi vediamo Abbiamo qui Incremento pie personali Ok Qui tutte robe ovviamente Inutili ecco Poi Metrica tropicale Stendardo volante Cobra Ah ecco il cobra cos'era Del Dell'immagine Poi Ok Andiamo Abbiamo vabbè V-Bucks Canzone molto particolare Ok Cos'è questo? Serpenti Ehm Carino Carino Ci sta Mi piace Attualmente mi sta Facciamo Abbastanza carino Vuzzi Ok Un cane finto Cos'è? Vabbè Intanto la scie c'è Ci sta Portale master Ok Penso si apra Quando fai delle kill Sidewinder Come si chiama? Sidewinder Ok Ah Sì è tipo Ok Ho capito Indiana Jones Femmina Ci può stare Ci può stare Dai Ci può stare Questo palladrimbalzante Che è lo slime Di minecraft Ok Legname Ho visto delle Imetiche molto fighe Cioè Per i vari spoiler Ecco Bella questa immagine Ok Trenino Un po' Una roba molto sobria Ecco Poi abbiamo V-Bucks Che non fanno mai male Ok Anche il cane Fantasma Potrebbe starci bene Con molte skin Morso serpentino Devo dire Per essere anche gratis Ci sta Lucchetto Ah È tipo una roba giapponese Che Di quelle robe che si Stirano Vedono Vedo la banana Vedo la banana Cos'è questo squadra Ok Niente di che Cos'è Stampa solare Questo Che barba Che noia Ah Proprio Sciallo Sciallo Sì Ok E bananita È stupenda Regà È bellissima Nananana Ma È bellissima Poi abbiamo Cos'è questo Ibrido Ed è animato Quindi ci sta Qui ancora Ah no Un cane vero Ah no È un lupo Ma è stupendo Il lupo è il mio animale E no Un lupo volpe Scusate Lol Coro corallino Ok Niente di che Ecco Poi grimaldello Sempre anche un po' Stile giapponese Queste cose Poi abbiamo Lava È fatto un po' male Cioè Ce l'hai Su Sui gomiti Praticamente Invece che sulle mani Però dai Penso ci possa stare Scalli di derado Mmm No Non mi piace Non mi piace Poi nananana Senti come spinge No Niente di che Poi abbiamo Ok Niente di che Bello nero così Ember No raga Ditemi se non è uguale A chi ha giocato a Skyrim A Gli elfi oscuri Con La magia Del fuoco È uguale Ci sta Ci sta Siamo al 70 Ok Manto di tigre Galleggiante Pirata Ci sta come idea È carina Mità barca Ci sta Poi Qui È oro Bello Chi è questo Chiave master Non mi fa impazzire Cioè Ha il suo stile Ha dello stile Questo con le munizioni Oddio Mi fanno male gli occhi A vederlo Poi abbiamo Potenza stellare Non ci credo È bellissima Potenza stellare Ok Adesso mi metto qui a sentirlo Ok Mimetica Ma questo è l'Ulalop Finalmente Uno Dalla season Diciamo 4 Un balletto Molto particolare Ecco Cioè È bello Oh Che non se ne vedevano così Ecco Ci sta L'Ulalop Mi piace Quest'ultimo balletto È particolare Non per la musica Proprio per La particolarezza Ok Non vedo niente Cos'è questo Chietra preziosa È bellissima Poi abbiamo Chiave master Maschera Ok La maschera del tizio Poi abbiamo questo Lusso Ok Cos'è che fa Ah Seriamente Aspetta Estrumento raccolta Impeccabile Il dorso Relativo Grosso Calvolo Molto Feroce Si aggiuntivi Per lusso Ma Siamo seri Io mi aspettavo Un dragone Infocato No Veramente Cioè Se devo esserci Sincero È È bello Il primo Qui Poi abbiamo Un paio Di altaplani Carini Qualche Sciacqua E là Balletti Niente di Troppo Particolarissimo A parte L'ultimo Skin Dai Ci possono Stare Le mimetiche Si sono un po' Impegnati In particolare Per l'ultima No Beh dai Diciamo che Penso di sì Riscattiamo Ah È scontato Ovviamente 1850 Sapete cosa Non lo prendo Prendo quello gratis Perché 1850 1850 Eccolo qui Ce l'abbiamo Let's go Pass battaglia Potenziato Oh Eccoci qua Vediamo un po' Tutto ciò che abbiamo Sbloccato Ok Anzi Chiudiamo tutto L'abbiamo già visto Siamo al livello 6 Mettiamoci subito La nostra skin Ah intanto Voglio vedere questo Così senza spagliere Ah senza questa spagliere Perché l'hanno tolta? Qui abbiamo Ibrido Che voglio vedere Stadio qui Del Quell'ultimo stadio Di colore nero Così penso Ci possa stare Così Ci può stare Ci può stare Boh non lo so Non capisco Proprio il Il senso Qual è la storyline Ecco Mentre questo Quare nero Che me lo metto Perché Sembra il più figo Ha Molti stadi Qui diventa sempre più Grosso Qui perde Braccia e gambe Qui diventa tutto morto Muore Definitivamente E qui Cambia tutti I colori Ovviamente Io terrò questo qui Ovviamente Non mi dire Bello Così bianco Io capisco Che l'hanno messo Questa come skin finale Come skin finale Ci stava tantissimo Avranno invertito I ruoli Si saranno sbagliati Non lo so Comunque Io direi che Per Vediamo se hanno aggiunto Le modalità No Hanno cambiato soltanto Le immagini Io Spero che Questa reaction Vi sia piaciuta Se così lasciate Un bel like Un commento Con questa schermata Chiudo il video Vi edito il video E ve lo carico E niente Ci vediamo Alla prossima Bella